Abbiamo lavorato bene, anche per me. Ce l'abbiamo fatta? Tieni, questo è tu. A presto, Gils. Grazie a tutti, le grazie. Grazie a voi. Ehi, capo, non abbiamo tempo per un drink. Certo, quando vuoi a casa mia, Callen. Mi ha fatto piacere, Getter. Anche a me. Ok, vola a passo. Buon volo, McGee. Grazie. Tanto per fare due chiacchiere. Ehi, scusate. Grazie. Figurati. Eh. Che giornata, eh? Già, davvero lunga. Ho bisogno di un po' d'aria. Bene. Ah, agente Gibson. Piacere mio, Nate. A presto, Tim. Io ho giurato di mantenere il segreto professionale. Ma, vedi, ho una vecchia storia che devo proprio raccontarti, Gibbs. Diciotto anni fa c'era una giovane tenente della polizia militare che indagava su un omicidio. Un sergente dei Marin aveva ucciso uno spacciatore messicano che prima aveva ucciso la sua famiglia. La sottotenente interrogò il sospettato ore ed ore. Lui voleva solo dimenticare, ma lei non lo lasciava neanche piangere la sua famiglia. Certe cose non si dimenticano. Ad un certo punto lei aveva tutti i dati di cui aveva bisogno, ma lascio perdere. Decise che era un caso chiuso. Il punto è che tu non hai mai saputo che lei ti ha protetto per tutti questi anni. Ecco, volevo che tu lo sapessi. Ecco, volevo che tu non hai saputo.